Pensi che gli piacerà? Bene, bene! Vediamo cosa abbiamo qui! Spero che gli piaccia! Che ne pensi? Va bene! Wow, che panino! Speriamo che funzioni! Questa è la mia occasione! Vediamo se ti piace questo sapore! La mia salsa speciale! Ti ho sopravvalutata! Oh, Catnap, sai come sorprendere! Oh, no! Clucky, che sta succedendo? Sembra che sia morto! Andiamocene da qui! Cara! Ups! Il detective circola sulla scena del crimine! E sembra un omicidio! Non preoccuparti, sono una professionista! Lascia che me ne occupi! Troom trick! E ora indaghiamo sulla scena del crimine! Un attimo! Che cos'è questo? Dobbiamo analizzarlo! Troom trick! Eccellente! Bene, Miss Clucky! Ora scopriremo cos'è successo! Analisi del cibo in corso! Scansione! Il cibo è avvelenato! Lo sapevo! Miss Clucky sputa il raspo! Questo grano è avvelenato! Ehi, non sputare! È da maleducati! Perché hai mangiato le prove? Avevo tanta fame! Sì, questo non va bene! Allora, abbiamo quattro sospettati! Huggy, Catnap e Miss Clucky! Ok, allora chi è stato? Ehi! Chi è? La tua consegna? Catnap, prendila! Io? Va bene! Oh, aspetta! Non ti ho mai visto prima! Sono un uovo! Ops! Che stai facendo? Non farlo cadere! Grazie, signore! Devo andare! Ciao! Deve essere il suo primo giorno! Vediamo che c'è qui! Oh, mio Dio! Cos'è? Ah, è una bomba! E adesso che facciamo? Oh no! Sta per esplodere! Aiuto! Ci penso io! Troom trick! Ehi, come sono finito qui? Buon appetito! Questo è per me! Sì, mangialo finché è caldo! Bene! Gnam! Oh! Un po' piccante! Chissà che cos'era! Oh! Un pelo viola! L'ho già visto! È tuo? Cosa no? Controlliamo subito! Eseguiamo l'analizzatore! È spaventoso! È l'assassino! Lo sapevo! Sei stato tu! No! Sono stato incastrato! Mi stavo liberando! Canaglia! Perché hai fatto questo a mio marito? Sembra che qualcuno possa usarlo contro di te! Abbiamo bisogno di un secondo controllo! Troom trick! Non è l'assassino! E allora chi è? Sospetti azzerati! Ma chi potrebbe essere? Ehi ragazzi! Ho trovato qualcosa! Questo non è mio! Non osare mentirci! State lontani da me! Seguiamolo in fretta! Sembra che se ne sia andato! Guarda Circle! Forse è laggiù! Hai ragione! Pensavi di poterti nascondere da noi! prepariamo una trappola! Grazie Clacky! Sei pronta? Gliela farò vedere! Andiamo! Sono proprio qui! Dobbiamo davvero strisciare! Non possiamo farci vedere! Perfetto! Siamo arrivate! Apri quando dico tre! Ok! Fermo! Cosa? Prese! Ora non potrete più liberarvi! Oh no! Che cos'è? E adesso che facciamo? Addeo! Delizioso! Qui! In fretta! Il mio nuovo piatto preferito! Ti prego! Salvaci! Vieni da me, amore mio! Perché ci mette tanto? Mangialo in fretta! Aggiungiamo un po' di pepe! Ora è perfetto! Niammi! Che prelibatezza! Grazie, signore! Grazie a te! Ok, come vuoi! Ehi, Circle! Guarda laggiù! Diamo un'occhiata! Aha! Sembra che abbiamo le tracce del sospettato, ma dove portano? Scopriamolo! Deve essere qui! Sento che ci stiamo avvicinando! Hmm, dog day! Oh, scusate! Quindi sei stato tu? Beh, lo scopriremo! Troom trick! Che ho fatto? Lasciatemi andare! Non così in fretta! È meglio se collabori o le cose peggioreranno! Ma io non ho fatto niente! Davvero? Credo che tu stia nascondendo qualcosa! Ti farò a pezzi! Dici tutto quello che sai! Questo li porterà sicuramente fuori strada! Ragazzi, guardate! Che cos'è? L'elenco delle vittime è stato aggiornato! Catnap prima non c'era! Quindi Catnap è il prossimo! Perché? Diccelo! Ti faccio un buco in testa! Ora abbiamo una prova! Dog day è il criminale! Ma non sono stato! Io non capite! Tieni la mia mazza! Cosa? Da dove viene? Ah ah! Bugiardo! Smettila di cercare di ingannarci! Stavi inseguendo Catnap con la mazza! Vieni con noi! Non ti lasceremo andare! Assassino! Non ti perdonerò mai! E ora dici perché l'hai ucciso! Cosa? Non sono stato io! Povero Clucky! Va bene! Caso chiuso! Troom trick? Cos'è questo odore? Non lo so! Non riesco a respirare! Troom trick! Oh no! Qualcuno ha rilasciato del gas! Aiutatemi! È bloccato! Forza! Alzati! Ah! Così testardo! Ma non ho abbastanza forza! E adesso che faccio? Se otteniamo abbastanza like avrò il potere di salvare tutti! Ragazzi per favore aiutateci! Mettete in pausa questo video! Ho bisogno di più forza per salvare tutti! Sto iniziando a sentirla! Troom trick! Troom trick! Fantastico! Ce l'abbiamo fatta! Espiriamo! Pensavo fossimo finiti! Ma dov'è Miss Clucky? Beh, guarda! Era lì! È strano! Dove sarà andata? Cerchiamo degli indizi! Ancora niente! Bingo! E questo cos'è? Il criminale deve averlo lasciato! Ehi, puoi lasciarmi andare? Perché andiamo insieme? Oh no! Il filo ci porta qui! Sento che siamo vicini! Perché il mondo è così crudele? Non mi meritavo questo voto! Ammettilo! Hai ucciso tu, Clucky! Oh oh! Il mio testo ridammelo! Sto parlando con te! So che sei stata tu! Non ti lascerò andare finché non avrò le mie risposte! Eccone un altro! Cosa? Non è giusto! È ora di andarsene! Che sta succedendo? Ehi, smettila! O allagherai tutto! E adesso che facciamo? Blah, blah, blah! In fretta! Troom trick! Mi dispiace! Non riesco a controllarmi! Quindi non è stata lei! Aspetta! Aveva un test in mano! È coinvolto qualcun altro! Ma chi? Oh! Ci sono delle impronte! Grazie! Vieni con me! Dov'è l'analizzatore? Dobbiamo scoprire chi è stato! Ehi! Posso offrirvi qualcosa? Stiamo seguendo un caso! Perfetto! E ora faremo luce su tutto questo! Troom trick! L'assassino è l'uomo in nero! E chi sarebbe? Venite tutti qui! Dobbiamo unire le forze per catturarlo! Ci sto! Facciamogli prendere un bello spavento! Ora non avrà scampo! Miau! Temi, catnap! Il terrore dei criminali! Uh-huh! Cosa? Va bene! Ora andiamo! Oh no! Attenzione! Oh mio Dio! Non è stato abbastanza epico! Andiamo! Alzati, tristezza! Oh! Siamo arrivati! Tristezza? Sei con noi o no? Oh oh! Trum trick! Ottimo piano! Tu sarai l'esca! Dobbiamo proprio farlo! Troppo tardi! Trum trick! Ok, ma non lasciatemi! Prepareremo una trappola! Perfetto! Mi salverete, vero? Oh no! È così spaventoso qui! Sembra che la tua squadra ti abbia abbandonata! Sta abboccando! Circle! Ora! Vai! Oh no! Muoviti! Non posso! Ah ah ah! Perdenti! Quanto devo aspettare! Ma che sta succedendo? Oh! Vuoi per caso dei popcorn? Smettila di spingere e lasciami uscire! Oh! Ha il formaggio! Grazie! Finalmente non muoverti! Ti abbiamo preso! Impossibile! Perfetto! E ora non potrai scappare! Caso chiuso! Ottimo lavoro! Oh oh! E ora vediamo chi è veramente! Non è possibile! Rabbia! Ma come sei finito qui? Dov'è il cattivo? È corso da quella parte! Oh oh! Smettetela di urlare! Ora va meglio! Per catturare un criminale devi pensare come un criminale! Ehi! Ma che succede a Circle? Forse è lei la criminale! Lo sapevo! Ferma! Ehi! Che state facendo? Ragazzi toglietemele! Non esiste! Non ci ingannerai di nuovo! Tristezza! Siediti! Perché hai ucciso Clucky? Non sono stata! Io slegatemi! Te la sei cercata! Uh! Troppo duro! Giusto! E ora ci direi tutto quanto! Basta! È insopportabile! Un attimo! Un modo migliore! Ecco qua! Ah! È fantastico! Dimmi! Sei tu la persona vestita di nero? No! Io sono Circle! È vero! Oh no! Guardate! Eccolo! Ha ha ha! Non mi prenderete mai! Troom trick! Oh no! È ora di salutarci ragazzi! Ha ha ha! Giù! Sono libera! Mancato! Povero Catnap! Non c'è tempo per piangere! Inseguiamolo! Ne ha abbastanza! L'avete trovato? Sei arrivato giusto in tempo! Ehi! Cos'è quello? Sembra la prossima vittima! Povera ragazza! Dobbiamo salvarla! Hai sentito? Sbrighiamoci! Oh oh! Attenzione i laser! Guardatevi! Non riuscirete perdenti! Oh no! Cosa faccio ora? Ci proverò! Ferma! Ehi! Ok! Ok! Sono ferma! Vuoi che ti succeda così? Prendi il compasso! Oh! Non ci arrivo! Oh! Non uscirò mai da qui! Ah! Come possiamo aiutarla? Wow! Wow! Possiamo farcela! Aspettate un attimo! Correte! E' veloce! Dobbiamo salvare la piccola! Andiamo! Siamo qui! Serve un tocco delicato! Solo un po'! Ti aiuto io! Oh! Di qui! Spero di non rovinare tutto! Sono vicina all'uscita! Evviva! Ce l'ho fatta! Oh! Ce l'abbiamo fatta anche noi! Ah! Attimo lavoro! Aspetta un attimo! Questo è molto sospetto! Si aggiungono altre prove! Forse ho trovato una traccia! Oh! Seguiamola! Oh sì! Sento che siamo vicini! Allora andiamo! Le tracce portano qui! Cosa? Pensate che sia stato l'assassino? Dobbiamo guardare dentro! Troom trick! E' così bello quando nessuno ti disturba! Oh sì! Così divertente! Ah ah! Presa! Ma non ci sente! La 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 la! Ti faccio vedere io il la la! Ops! Meglio andare! Ops! Oh! Scusate per il disturbo! Oh! Allontanati da me! Perché mi stai attaccando? Oh! È così maldestra! Non scappare! Lo sapevo! Stesse ciocche! Proprio come sulla scena del crimine! Fermiamola! Occupati di lei! Con piacere! Troom trick! Ah! Pronto a scappare ora! Dove stai andando? Non abbiamo ancora finito! Mi giro la testa! Qualcuno andrà in prigione! Cosa? Ragazzi aspettate! Ecco il vero assassino! Quindi è fuori! E' ora di finire con queste emozioni! Ti toglierò quel sorriso dalla faccia! Che mascalzone! Aspettate! Potere della gioia! Troom trick! Che cos'è? Che luce intensa! Per favore, fermo! Troom trick! Ehi, hai perso qualcosa! Che strano scrigno! Apriti! Guardate le impronte! Credo che la cera aiuterà a risolvere il mistero! Dammi un po' di fuoco! Non farmi arrabbiare! Continua così! Si è quasi sciolto! Come va? Perfetto! Ora mettiamo alla prova la mia teoria! Oh! Funzionerà? Troom trick! E il forziere si è aperto! Posso vedere? Ho ucciso Gioia! Mi incolpano di nuovo! Il mio posto è in prigione! Cosa c'è dentro? Oh no! Ho ucciso Gioia! Quindi sono stato io! Verrò in prigione con te! Puoi portarci lì! Ragazzi, togliete le manette! So che non siete stati voi! Troviamo il vero assassino! Deve essere qui! Lo vedete? Le prenderò il compasso! Chi è il più figo adesso? Oh, non io! Te ne pentirai! Vediamo! Troom trick! Oh no! No! Oh no! Come ha fatto? Ora basta! Gioco finito! Non riesco! Ma ci penso io! Forza! Aprite! Ragazzi, aiutateci! Raccogliamo più like possibili per aiutare rabbia! Ci serve il tuo aiuto! Premi su mi piace sotto questo video! Per favore, non possiamo farcela senza di te? Oh, siamo liberi! Possiamo uscire! Ok, partiamo! Ma... Perfetto! Ora nessuno mi fermerà! Torrete! E ora? Ehi, sono qui! Ho sempre voluto provare questo! Troom trick! Delizioso! Miam, miam! Ne voglio ancora! È ancora più gustosa! Che cattiveria! Credo sia arrivato il momento di fare qualcosa! Io credo in te! Riprenderà il compasso! Come ho fatto a non vederlo? Devo punirti! Cosa? Come osa parlare così? Troom trick! Che ne dici di questo, eh? Scotta! Fermati! Cosa? Non scappare! Ti cerchiamo da tanto! Lasciami andare! Te l'ho perso! Ragazzi! Serve aiuto! Sì, ci farebbe comodo! Ok! Troom trick! Molto meglio! Questo è un vero potere! Grazie, tristezza! Siete la squadra migliore! Oh no! Così stretto! Scusate! State bene? Non proprio! Troom trick! Dobbiamo prenderlo! Hai ragione! Eccoti! Troppo tardi! Non potete salvarla! Addio! Fermati! Come hai fatto? Tieni duro, piccolo! Ti slegheremo! Non hai più un posto dove scappare e andrai in prigione! Per favore, non farlo! Troom trick! Ciao, ciao! È quello il tuo posto! Il caso è chiuso! Cosa? Ehi! Oh no! Miss Circle! Cos'è successo? Non può essere! Andiamo, tristezza! Dobbiamo cercare di aiutare Circle! Tesoro, non abbatterti! Prendi il compasso! Wow! Cos'è questo look? Oh no! Adulti! Nascondiamoci! Ai! Un piccolo avvertimento sarebbe stato gradito! Come stai, Circle? Oh, sono triste! È quello! Un altro pezzo di spazzatura! Per favore, non farlo! C'è la mia amica lì! Ho un'amica! E ora? Cosa vuoi fare? Piangere? Perdente! Non la perdonerò per questo! Basta! Ne ho abbastanza! Riley, questo è inaccettabile! Dai alla lavagna! Ma che le prende? Un compleanno terribile! Che devo fare? Non è preparata! Qualcuno per favore l'aiuti! Basta preoccuparsi! I foglietti sono qui! Sì, ma questi hanno degli errori! E la calligrafia è terribile! Non riesco a leggere nulla! Povera bambina! Povera bambina! Tanto stress nel giorno del suo compleanno! Ragazza, guardami! Questa è la risposta! Perché saluta? Si è fatta le unghie! Da questa parte è chiaro ora? Oh, grazie! Mi hai salvato la vita! Ero preoccupata, ma la risposta era facile! Grazie, amica! Non c'è di che! Sono sempre felice di aiutarti! Ah, sono così dolci! Oh, un nuovo ricordo per la collezione! Adoro questi dolci ricordi! Ho un regalo per te! I biglietti per il parco acquatico! Ci andiamo insieme? Oh, che bello! Certo, andiamo! Wow, questo posto è fantastico! Sembra che la giornata stia migliorando! Sì, sarà divertente! Così buono! Oh, miom, miom, miom! Sei così divertente! Oh, un nuovo ricordo! Oggi sto vincendo, ragazzi! Guarda, è la mia cotta! Scaldiamoci un po'! Chi è il capo? Ciao, piccola! L'ha appena guardata! I suoi capelli sono a posto! Ansia, smettila di farti prendere dal panico! In fretta, avanti! Sei gentile, sei divertente! Stai bene? Ciao, campione! Ops! Divertente! Vuoi provare a tirare un pugno? Ok! Ecco a te! È così pesante! Sono proprio sfortunata! Non preoccuparti, ragazza! Oggi gli mostreremo i tuoi punti di forza! Preparati! Tre, due, uno, via! No! Ora vedrà cosa sa fare questa ragazzina! Ecco qua! Wow! Sei forte! A proposito, sto organizzando una festa, verrai? Sì, mi piacerebbe! Sì, mi piacerebbe! Sei così dolce! Tutti fuori! Evacuazione! 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 Oggetto non identificato attaccato a un ragazzo! Beh, ci vediamo! Ma che è appena successo? Non posso crederci! Il ragazzo più carino della scuola mi ha invitato alla sua festa! Ma che devo indossare? Non posso andare con questi vestiti noiosi! Ho bisogno di qualcosa di speciale! Questo è troppo infantile! Questo è troppo colorato! Forse questo o questo? Oh, papà! Aiutami a decidere, camicia oppure questa? Sì, mi piace tutto! Davvero meraviglioso! Ma non mi ha neanche guardata! Oh, mamma! Che posso indossare? Tesoro, l'importante è che i vestiti siano puliti! E tu sei così disordinata! Beh, grazie! È stato molto utile! Questa camicia è troppo grande! Sembrerà un topo a quella festa! Basta! Possiamo sistemare tutto! L'importante è mantenere il buon umore, non i vestiti! Sorridi? Oh, no, no! Dammi un'altra possibilità! Lavoreremo un po' su questo e lo sistemeremo! Sta sempre al pannello di controllo! È così fastidiosa! Sì, basta lamentarsi! Aggiungiamo qualche accessorio e conquistiamo il mondo! Bel vestito! Oggi stai benissimo! Come sempre! Ehi, ragazzino! Vieni un po'! Porta altra Coca-Cola per la signora! Ok, arrivo subito! Che è quello? Oh, amica! Avrei dovuto scegliere qualcosa di meglio! So che ti piace l'hockey! Vuoi fare una partita? Sì, mi piacerebbe! Guarda! Mi ha chiesto di stare accanto a lei! Ecco una mazza! Io credo in te! Per me sei sempre una vincitrice! Sì, andiamo! È ora di prendere il controllo! Neutralizziamoli! Ma che sta facendo? Apri subito! Sì, ragazzi! Ora ci divertiremo! Divertiamoci! Allora, vuoi unirti alla mia squadra? Voglio stare con te! Sei così figa! E io? Che mi sceglierà? Rilassati! Passo a farcela! Fatti da parte! Dai, battila! Fai vedere chi sei! Oh no! Cosa? Wow! Che galla! Sei forte! Certo che lo sono! Ora tocca a te! Forza, colpisci dritto! Oh, al centro! Mi raccomando! Oh, mi piace! Fateci uscire! Oh, c'è l'elettricità! Concentrati e non sbagliare! Per favore, basta! Non mi piace questo gioco! Credo di essermi fatta male! Perdente! E tu sei una bellezza! Ma è ora che scelgo un'altra squadra! Non sto con i perdenti! Hai scelto la parte giusta, piccola! Traditrice! Ora ti insegno un trucco! Guarda come si entra in classe con stile! Ma io non posso farlo! Puoi farcela! Basta aggiungere un po' di adrenalina! Con questa musica gli ormoni impazziranno! Ok, corriamo in rischio! Bambini, voi... Oh! Dove sono i miei occhiali? Non vedo niente! Oh, scusi! Ops! Sono così goffa! Cosa, tu? Questo è inaccettabile! Non hai superato il test! Sparisci dalla mia vista! Bambina! Come posso aiutarla? Prima di tutto dobbiamo occuparci di questa ribelle! Lasciate che mi occupi di lei! Aspetterò i tuoi genitori a scuola! I miei occhiali! Non ne troverò mai un paio così belli! È così egocentrica! Non ho fatto niente di male! Che succede, tesoro? Che è questo? Non hai passato il test! No, ma non è colpa mia! Cosa? E com'è successo? Bel martello! Lasciatemi in pace! Non voglio parlare con voi! Andate via! Siamo bloccati qui! La sua vita è rovinata! Andrà meglio! Usciremo presto! Che succede? Le tue lacrime! Dai, piangi ancora un po'! Sì, ce l'hai fatta! Ottimo lavoro! Non ti dirò più di non piangere allora! Ce l'ho fatta, piantagrane! Non toccherai più il pannello di controllo! Solo un'altra volta! Sarai punita! Ho una carta! Siediti lì e non muoverti! E noi andremo a sistemare il casino che hai fatto! Usc! Slegami ora! Guarda la nostra bambina! Le cose migliorano! Tutto sarebbe perfetto se iniziasse a fare qualcosa! Che è successo? Il pannello di controllo è congelato e non funziona! Penso di aver capito! Ragazzi! Aiutateci a rallegrare la nostra bambina e i vostri like! Sono le sue emozioni positive e più veloce! Non possiamo farcela senza di voi! Ancora un po'! State andando alla grande! Grazie, ragazzi! Facciamolo! Guardate qui! Ha funzionato! Sono triste e sconvolta! Penseremo noi a tirarti su! Guarda cosa abbiamo per te! Abbiamo pensato a qualcosa che ti renderà felice! Che ne pensi? Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Condividete i vostri ricordi più belli nei commenti! Wow! È meglio di quanto credessi! Sono così felice! Posso aprirlo? Certo, cara! Aggiungiamo qualche dettaglio! Tutto pronto? Possiamo iniziare! Sì, iniziamo a giocare! Cara, non dimenticare quello che abbiamo concordato! Certo, tesoro! Ancora un po' e ce la farò! E... Gol! Oh no! Sì, è molto triste perdere! Ma sono così felice per te! Mio piccolo raggio di sole! Oh, la mia campionessa! Preparatevi, amici! Ci saranno tanti bei ricordi! L'ho preso! Preso! Oh, li metterò al loro posto! È così divertente con voi! Ma devo andare al parco acquatico! La nostra bambina è così carina! Ciao, Molly! Un altro fallimento! Non essere triste! Lasciami giocare con te! Wow! Al primo tentativo! Sei fortunata! Wow! Ed è un bel premio! Questi sono per te! Scusa per il mio comportamento! È stato sciocco! Non c'è problema! Oh, adoro questi momenti felici! Anch'io! Lascia solo che lo metta a posto! Datemi il pannello di controllo! Oh, voglio premere quel pulsante! Ehi, amica! Smettila di saltare sulla sedia! Vai a guardare l'angolo! Grazie ancora! Sei così gentile! Nessun problema! Ciao, ciao! Ciao! I miei occhiali! Non ne troverò mai di altrettanto belli! È ora di dirgli addio! Servono più a lei! Troom trick! Oh, che sono questi? Wow! Occhiali nuovi! Per favore, li prenda! Sono per me! Sì, sono per lei! Mi dispiace per quelli rotti! Proviamoli! Mi stanno benissimo! Grazie! E non è tutto! Per favore, controlli di nuovo il mio test! Sì, lo farò! Oh, un attimo! È una A! Forte! Grazie! I miei genitori ne saranno felici! Ciao, ciao! Ciao a tutti! Che succede qui? Dai, colpisci più forte! Sono stanca! Puoi sostituirmi? Certo, con piacere! Cosa? Vuoi giocare contro di me? Ok! Preparati a perdere! Forza, perdente! Tocca a te, caro! Prego! Signore e signori, preparatevi a un'eliminazione istantanea! Iaah! Vediamo chi è il vero perdente! Sembra che la regina sia caduta dal trano! Oh no, la mia mozza! Ha avuto quello che si meritava! Ma la mozza che aveva fatto di male! Non è colpa sua se il proprietario è sciocco! Ansia, abbiamo bisogno di te! Grazie per questa comoda poltrona! Siete stati molto ospitali! È arrivato il momento, ragazzi! Dobbiamo fermarli! Dobbiamo farlo insieme! Sì, sono d'accordo! Bene, e tutti insieme il Troom Trick! Dammi la mano! Questa è la mia mazza! Grazie mille! Andiamo, amica! Ciao, ciao! È stato inaspettato, ragazze! L'hai battuta di brutto! Vediamo se sei brava anche in questo! Facciamolo! Chi è quella? Aiutatemi! Fatemi uscire da qui! Ma come c'è arrivata? Ehi, ma dove stai andando? Non è divertente! Ragazza, devi uscire da qui! Ci proverò! Oh, credo di aver capito! Ma che dobbiamo fare? Devi trovare l'uscita! Ecco la porta! Forza! Potete farcela! Oh no! È chiusa! E noi non possiamo passare! Ma Cat'Nap e Dog Day, sì! Forza! Hai ragione! Ma come possiamo fare? Ci deve essere una soluzione! Guarda, qui ci sono Cat'Nap e Dog Day! E c'è anche un gioco da tavolo! Proviamo a giocare con loro! Dai, potete farcela! Wow! Ma certo! Devono seguire questo percorso e raggiungere il traguardo! Wow, facciamolo! Tu sarai Dog Day e io Cat'Nap! Guarda, io! Ops! I miei occhiali! Venite qui subito! Più energia, ragazze! È un terremoto! Una commozione! E questo cos'è? Siamo incatenate! Qualcuno ci aiuti! Che sta succedendo? Ha paura? Sembra che ci stiano truccando come i personaggi del gioco! Hai ragione! Stiamo iniziando il restyling! Hai ragione! E ora iniziamo con il makeover! Wow, inizia a piacermi! Wow! Bene! Oh, andrà davvero tutto bene! Wow, forte! Sì! Avete visto il nostro trucco? Fantastico! Avete visto il mio? Andiamo al tabellone! Guarda, ci servono dei guanti a zampa! Ma questi come li facciamo? Ci penso io! Vedati di me! Spero che tu ci riesca! Ah-ah! Eccoli! Non sono un genio! Oh, ci sono! Eccoli! Ce li ho anch'io! E ora cucciamo, giusto? Ma certo! Però prima dobbiamo tagliare la forma! Dobbiamo sbrigarci! Guarda! Uh-huh! L'ha fatto anch'io! Batti il cinque! Oh, ok! Andiamo! Ora tocca a me lanciare! Troom trick! Oh, wow! Cos'è questo? Oh, sembra una sfida con la carta igienica! Proviamo! Guarda quanti premi! Vado io per prima! Dobbiamo trascinare il bicchiere dall'altra parte del tavolo! Uh! Fermati! Ho vinto delle Skittles! Che bello! Oh, sono fortunata! Adoro gli Skittles! Mmm, buone! Oh, i miei capelli! Oh, ho un'idea! Proviamo con questa gialla! Wow! Ha funzionato! Ci sono! Ne proverò una viola! Uh, eccoci qua! Uh, proprio quello che mi serve ad ora! Ora tocca a te! Uh! Penso di essermi guadagnata un po' di latte! Oh, queste orecchie sono così carine! Ok, ora provo anch'io! Oh, una carota! La stranocchia un po'! Oh, che succede? Oh, no! Queste non sono le orecchie giuste! Dobbiamo sistemarle! Wow! Qual è il premio? Uh, un gadget per le trecce! Ben fatto, Kat! Guarda, questa acconciatura non è adorabile! Proviamo qualcos'altro! Penso che queste si abbineranno più al mio look! Uh, forte! Wow! Anche le orecchie sono cambiate! Davvero fantastiche! Che ne pensi? Hai un aspetto fantastico! Oh, è un asso come spuntino! Andiamo! Non abbiamo ancora finito! Bene, ora tocca a me! Troom, prick! Oh, come stanno le mie ragazze! Vediamo! Abbiamo vinto! Sì! Non è possibile! Non ve lo permetterò! Uh, aspetta, Kat! Che cos'è? No, questo no! Era quello che speravo! Ah, Mr. Light è davvero fastidiosa! Beh, vediamo chi abbiamo qui! No, non c'è via d'uscita, ragazzi! Per favore, aiutateci! Mettete un like a questo video, così potremo continuare! Solo un po', per favore! Qualche like e basta! Contiamo su di voi! Uh, uh, uh! Siete fantastici! Il top! Questo è per me! Ma dove sarà? Wow, guarda, veloce! Posso aiutarti? Sì! Puoi delinearmi! Oh, certo! Nessun problema, aspetta! Questa è un'idea fantastica! Ok! Ho quasi fatto! Bene! E ora che abbiamo le misure, possiamo ritagliare! Fatto! Ora abbiamo il modello! Oh, Kat! Quella cos'è? È una tintura, ma è speciale! Vuoi provare? Poche gocce, il gioco è fatto! Bene, grazie! Aggiungiamo un po' di pelo! Troom trick! Decoriamo il nostro top! E ora le maniche! Manca ancora qualcosa! Uh, vediamo! Ma certo! Perfetto! Ora è fantastica! Proviamo a indossarla! Wow, sei incredibile! Oh sì, anche a me piace! E ora continuiamo il gioco! Troom trick! Tocca a me! Un semaforo! Che strano! Oh, lo schermo si è illuminato! Sembra sia il momento di ballare! Ma dove esattamente? Uh, ecco le piattaforme! Ora possiamo ballare! Fantastico! Ce la farò! Finalmente posso usare le mie abilità! Ciao, ciao, ciao! Sì! Ha ha! Hai visto, Cat? Io credo in te! Li batterai tutti! Grazie, Molly! Sto facendo del mio meglio! E ora? Ho vinto! Oh, ho vinto! Ballo della vittoria! Wow, quello cos'è? Ehi! Il premio deve essere qui! Wow, che bella! È una tuta! Non vedo l'ora di provarla! Uh-huh! Come sta? Ti sta bene? Miau! Grazie! Guarda, abbiamo portato a termine il compito! Ora, tocca a me! Troom trick! Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Allora assicurati di mettere mi piace e di iscriverti!